Cristiano Malgioglio e Raffaelloto non hanno fatto pace, ecco come Dopo il grande fratello VIP Cristiano Malgioglio e Raffaelloto non hanno fatto pace. Cristiano Malgioglio e Raffaelloto non hanno ufficialmente fatto pace. Il paroliere e l'opinionista tv si sono chiariti dopo il litigio scoppiato durante la semifinale del grande fratello VIP. L'artista ha nominato l'amico di Luca Onestini mandando fuffi su tutte le furie. Soprattutto perché tra Malghietto non si è instaurata subito un forte legame all'interno della casa di Cinecittà. Il tradimento di Cristiano ha deluso parecchio Raffaello che lo ha immediatamente fatto notare al diretto interessato. Una volta finito il programma, i due si sono chiariti e riappacificati lontano dalle telecamere, come rivela il settimanale Oggi. Non solo, Tonnone e Malgioglio hanno cominciato a farsi seguire pure dallo stesso agente per gestire le varie e numerose serate in discoteca dove, dopo la fine del reality show, sono richiestissimi. Il gossip di oggi su Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonnone. Raffaello Tonnone e Cristiano Malgioglio hanno sempre discusso nella casa del grande fratello VIP. Da quando sono usciti, però, vanno d'accordo. Si sono affidati pure allo stesso agente per organizzare le ospitate in discoteca si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani. Inoltre i due hanno di recente presenziato insieme ad un evento benefico a Milano Marittima. Insieme a loro altri ex beffini quali, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Gerenias Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Veronica Angeloni, Ignazio Moser. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Insieme a tutti i nostri amici.